Ciao amici siamo a Forteventura, oggi c'è una forte vento perché insomma forte ventura vuol dire forte avventura ma molti pensano che vuol dire forte vento. Oggi c'è, così magari in un certo punto di questo allenamento dovrò spiccolarlo ma la panorama è talmente spettacolare che non potrei non approfittare di queste belle giornate per farti un allenamento puro, proprio per le nostre braccia. È un allenamento soft, utilizziamo i nostri pesi che possono variare da un chilo, un chilo e mezzo, due chili, tre chili, quattro chili, ok decidete voi e man mano lavoreremo insieme e vedrai magari fra quattro settimane, sei settimane che dovete aumentare. Allora allenamento uno, spalle giù, se non rimango bello centrato sopra i miei fianchi, cominciamo venticinque, i gomiti sono leggermente piegati. Bicipiti, giro le palmi, ok? Tiro su, rompo il braccio, rompo proprio il polso per far sì che ho una massa, prossimo contrazione sul mio bicipite, ok? Adesso andiamo a fare alzate frontali proprio per le spalle, ok? Per la parte anteriore della spalla. Adesso andiamo a lavorare i tricipiti, di conseguenza giriamo, spalle indietro, passo davanti e solleviamo i pesi. Pottiamo il braccio in su, spinta in alto. E scendiamo giù, apriamo i bicipiti, spalle indietro, pet in avanti, rompo sempre il polso e su e giù. Adesso andiamo a fare i rematori, le spalle sono in linea, ok? Proprio con le spalle, per la parte posteriore della spalla. Musica Le mani di fronte a me, gomiti leggermente piegate. Musica 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 Grazie a tutti. Teniamo con i principi, i gommati sono piegati, pezzo davanti e spalle indietro, estensione. Il primo circuito è andato, adesso ricominciamo da capo, vi raccomando prendete il recupero quando dovete ma continuare in modo fluido di tenere i gommati leggermente piegati, le spalle rilassati e cominciamo con il secondo circuito. E uno, due, tre, quattro, cinque, sei, spalle basse, il punto del movimento sono proprio le spalle. Ancora dieci e dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, ancora cinque, cinque, quattro, tre, due, uno. Ora, bicipiti, rompe il polso di fronte a me, i gomiti rimangono attaccati alla cassa toracica, all'altezza dei nostri gomiti. E salgo e scendo, due, tre, quattro, cinque, sei. Fai anche una piccola torsione in apice del movimento per dare il massimo contrazione di concentrazione sulla vostra, diciamo, proprio della pressione del muscolo. Ancora dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno. Eccellente. Braccio indietro, tirate indietro le spalle, palmi verso il soffitto, verso il cielo. Cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, ancora dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, ancora cinque, quattro, tre, due, e siamo a venticinque. Eccellente ragazzi, stiamo facendo un ottimo lavoro. Adesso, spinto in alto, siamo a venticinque, andiamo, spingo. Tenete i gomiti leggermente in linea con le spalle, ok? Ancora, quattro, tre, due, ancora dieci, dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, ancora cinque, cinque, quattro, tre, due, ancora cinque. Due, e uno, piego, braccio giù, chiudo giù, apri le mani e ritorniamo sui bicipiti. E uno, due, rompe il polso, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, ancora dieci. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, ancora cinque, cinque, quattro, tre, due, e uno. Eccellente. Andiamo proprio a fare i piramidi. Su e giù. Due, tre, gomite leggermente piegate. Siete, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, ancora, ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, e venti. Ancora cinque, cinque, quattro, tre, due, e uno, piego, scendo giù. Gioriamo poco a poco, il goblin va in linea con le spalle, busto in avanti, è uno, due, remontori alti, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, ancora, ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, ancora cinque, cinque, quattro, tre, due, e uno, eccellente, giriamo, ok, estensione per i principali, allungo, torno, stendo e torno, and, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, ancora, ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, e venti, ultima, cinque, quattro, tre, tre, due, e uno, secondo circuito andato, adesso cominciamo con il terzo circuito, pronti? Five, six, e uno, due, tre, quattro, cinque, sei, spalle basse, pulco del movimento sono proprio le spalle, ancora dieci, e dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, ancora, dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, ancora, dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, ancora, cinque, cinque, quattro, tre, due, uno, ora, bicipiti, rompe il polso di fronte a me, i gomiti rimangono attaccati alla cassa toracica, all'altezza dei nostri gomiti, e salgo e scendo, due, tre, quattro, cinque, sei, fai anche una piccola torsione in apice del movimento per dare il massimo contrazione di concentrazione sulla vostra, diciamo, proprio della pressione del muscolo, ancora dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, ancora, cinque, quattro, tre, due, e uno, eccellente, braccio indietro, tirati indietro delle spalle, palmi verso il soffito, verso il cielo, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, ancora, dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, ancora, cinque, quattro, tre, due, e siamo a venticinque, eccellente ragazzi, stiamo facendo un ottimo lavoro, adesso, spinto in alto, siamo a venticinque, andiamo, spingo, tenete i gomiti leggermente in linea con le spalle, ok, ancora, quattro, tre, due, ancora dieci, dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, ancora cinque, cinque, quattro, tre, due, e uno, piego, braccio giù, chiudo giù, apri le mani e ritorniamo sui bicipiti, e uno, due, rompe il polso, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, ancora dieci, ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, ancora cinque, cinque, quattro, quattro, tre, due, e uno, eccellente, andiamo proprio a fare i piramidi, su e giù, due, tre, gomite leggermente piegate, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, ancora, ten, nine, quattro, tre, due, ancora cinque, cinque, quattro, tre, due, ancora cinque, cinque, quattro, tre, due, e uno, piego, scendo giù, giriamo poco a poco, il goblin va in linea con le spalle, busto in avanti, e uno, due, remontori alti, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, ancora, ten, nine, eight, seven, six, five, five, four, three, two, ancora cinque, quattro, tre, due, e uno, eccellente, giriamo, ok, estensione per i principali, allungo, torno, stendo, e torno, and, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, ancora, ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, e quattro, cinque, quattro, eccellente, tre serie per le braccia, con il peso che vuoi tu, può essere un chilo, un chilo e mezzo, due chili, tre chili, decidi tu, vedi tu puoi anche cambiare il vostro peso per ogni circuito che fai, ma ci tengo di fare anche un po' di pesistica puro perché ci dà un po' più di tono per le nostre braccia che comunque ci aiuta a sembrare già più magri quando ci indossiamo nel nostro bellissimo canottiere. Passate una giornata splendida, vi aspetto al prossimo allenamento qui su Now, No Ordinary Workout, e io spero che ogni giorno che passa ti senti più in controllo della tua vita, più in controllo del tuo corpo e di conseguenza più felice. Baci dalla Jill, ci vediamo al prossimo allenamento insieme. Baci dalla Jill, ci vediamo al prossimo allenamento.